E questa volta, signori e signori, se noi andiamo all together in Kazakistan. They come from Kazak, come la scuola è un'Italia. Attenzione, con un barara non mercova. Per tutti quanti voi, for all of you, per te, facciamo un quarto applauso, big applause per me. Applauso! ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.